È stato un dispiacere e adesso partiamo con... aspetta che c'è ancora i bidoni Non ce la faccio, ma non ce la faccio Niente, mi ricordi, troppi ricordi Se stasera arriviamo a 2000 rimetto il loop Ma non arriviamo a 2000 tanto A 2000, no, a 2000 la arriviamo Allora, vi trovo una compilation di canzoni di Pupo Dai, che bello, non vedo l'ora Dopo lui c'è Pupo, giustamente No, 2000 è imposti, però 1500 1500 Pupo, dai Pupo o Pino Daniele, decidete voi No, anzi, Nino D'Angelo, va bene? Nino D'Angelo, facciamo 1500 Fammi chiudere per sempre Cancellare dal cestino Allora, intanto dobbiamo ringraziare un po' di persone Eh, un bel po' Non so se... Bene, grazie mille Quello Stro di Moro Due volte Zered di Otto Obi-Roll 96 The Paranoid Elia Ocwood Marme 92 Vedim Master Simone M Mark Salve E Butu era l'ultimo E Butu era l'ultimo Quindi grazie mille a tutti Grazie mille Grazie mille E a tutti quanti Proprio a bomba ragazzi Sì, sì, vi si vuole, vi si vuole bene Non è vero Infatti ho detto tranne a moro Allora Ciao Ciao Rosha Fortuna sei arrivata adesso Ti sei persa cose che ti dovevi perdere Hai fatto bene Esatto Io mi sono innamorato Ma di tuo marito Che disgrazia Cazzo Io sono una merda Non vedete ancora Ma tra poco lo vedrete Io devo scappare dal gioco Ma che devo staccare il pen Ma dai Ma dai No, no, no No, ti esce Col ruboreo Cosa? E allora cazzo Ma che mi trovo è una cazzo Con mareo E mi sono innamorato Ah Due quiz Vico Grazie Grazie Ma io non ho Aspetta scusami Lezza Perdonami E mi sono innamorato Di tuo marito Eh, chi sei notte Adesso puoi accettare Eh Questa sera Torniamo Con la classica sfida No? Con il derby L'altra volta L'abbiamo vinto io e Morelli Questa sera Chi la vincerà? Chissà 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 Chi la vincerà Forse noi Forse voi Ma io penso che vinceranno loro Ma ho questa sensazione Anch'io questa sensazione Io invece do per favoriti culoni Questa sera Perché il team Maliali Oggi è un po' triste Perché Se no partiamo così Giochi da solo Io sono dentro Che Devo dire Forse Forse il bot è meglio Io sono Adesso siamo Io e Inot Allora così siete Mark e Inot Contro gli Ezzar e Morelli Hai sbagliato Hai sbagliato Che non lo so Però hai sbagliato Forse dobbiamo rifare No 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 Dobbiamo rifare No 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 Perché Questa qui Questa qui è persa Per colpa di un bug Esatto Comunque volevo dire Che questo è il team Maliali 2 Perché Anche con Corvo è il team Maliali, certo. Esatto. Il team Maliali vicente. Change! Change! Eh vabbè. Il team Maliali è come il New Day. Possono difendere il titolo così. Si, volendo. Io mi sono innamorato. Moro io non ce la faccio. A continuare. Questa è... Ho sbagliato colore! C'è bel pisello. Che sono un euro cinquanta. Giustamente. Aspettatori. Compilation di Leone di Lernia. No, no. Abbiamo detto Nino D'Angelo. A 3000. A 3000. A 2000. Poi faremo i Gemboy. E qua non lo dovrei fare. 5,000. Allora. E va bene, dai. Ah, il 2, vedi. Ma io guarda. Gli Ezzaro secondo me... Potrò la un attimo Moro perché... Si sicuro. Eh dai dai. Eh hai fatto bene perché infatti voglio tirare questa qui. Guarda. Vedi. Sette. Come le tette delle donne. Ah quante. Che belle. E' una mucca. Ok. Ah, peccato. Il rosso proprio non ce l'ho. Ma fortuna che hai pescato quella Amorelli, vero? Esatto. E mi... Basta Malgioglio! E mi sono il mio amore. Non è possibile che penetra nel cervello. Eh sì. Il cervello perché... Grandissimo Malgi. Grandissimo Malgi. Grandissimo Malgi. Malgi. Malgi, Malgi. Con la discorsa. E va bene, va bene. Ed è Pierpollo che da una 2 ore 20 dice... Ho alzato il volume e mia madre dall'altra stanza cantava. Ed è arrivata in camera mia ballando. Che immagine guarda Pierpollo. E mi sono in amore. E che scacchio. Che scacchio. E va di tu. E che cacchio. Io... Ma guarda te, guarda delle volte... Tre. Devo farlo. Fallo, fallo. È fatto bene. Ehi. Change. E che cazzo. Non le proviamo tutte così vince. No. Adesso non le provi... Bravo. Come è? Momento Entai. Beh? Che brutta sta cosa. Ma... Infatti adesso butterà la nera. Cambio il culo. Fa saltare il turno. E niente. E mi sono in amore. Tornali. Tornali. Basta. Per l'amore del cielo. E Team Maliali. E Team Maliali. Team Maliali. 1-0 per il Team Maliali. 1-0 per il Team Maliali. 5-0 per noi. Vai. Questi qui non sono buoni neanche a... A mentore. Neanche a ladrarsi. Neanche a ladrarsi. Abbiamo vinto. Si vede. Cioè io sono in live. È la prima partita. Siamo in live da 6 minuti. È la prima. Infatti siamo così bravi che... Eh no. Cioè è tutto registrato. E se no teniamo il conto da prima. Se vuoi muorare. Sì. 3-0. E cosa siamo? 1-0. 10-1 a 3 circa. Ma Cuyasha, 100 Beatz. Ma Cuyasha, Macyasha. Ma Cuyasha. Grazie. Non abbiamo la musichetta però. Non mi è arrivato. Eh sì sì sì. Si attivare. Io non vedo più niente. Comunque. Nun mi è arrivato. E Te Re De Rose. Adesso me è arrivato. Eh dai. I Martur adesso. 1-0.50. Eh Ti Maliali. Eh bravo Morelli. Eh ma Marco dovevo per forza. hai bisogno di mettermi gli occhiali un attimo amici e niente Marco ah ce l'ha buon terzo grazie grazie buonanotte waterproof grazie a me ce le cercano pure un attimo prendiamo tutti un attimo strunz eccomi lo faccio Morelli change perché l'hai fatto sei un coglione si prevalentemente si ok adesso con gli occhiali sono molto meglio con gli occhiali in faccia io mi chiamo focaccia andiamo a Beppe Berlino quella andiamo a Beppino Berle questa è terra da poker il signor culattone vabbè oggi oggi siamo in bene oggi siete tutti altro cilindro e niente il signor culattone bene bene ma io mi do di supporto anche il culo facciamolo giocare però Liezar e fallo giocare Liezar dai Liezar e adesso butta la nera e cambia colore e va bene dai e niente Marco pesca e niente ho vinto 2 a 1 avevamo 2 nere 2 a 1 tra vincere male e invece cazzo 2 a 1 è vero che ci sono le emoti con dei beats quelli di Halloween si quelle di Halloween avete better twitch quello che funziona no credo che quelle dei cheer funzionino sempre anche animate perchè io le vedo animate io le vedo animate credo di sì vabbè io le ho better twitch quindi ma dai che faccio facciamo così oggi oggi serata onesta sto 1 a 1 non abbiamo paura scusate stavo vivendo un momento in thai eccomi qua stavo prendendo gli occhiali che non si sono puliti perchè era il riflessor io mi sono innamorato ma di tuo marino di tuo marino? si ahia e niente me le prendo momento Marco sei proprio stupidino tu dentro al bidet va bene dai momento in tre dentro al bidet cambiano ma noi che ce ne frega Morelli diglielo che ce ne frega a noi eh va bene dai va lordo eh eh sono 8 come i piedi dell'altra persona che stavo dicendo prima e niente cavolo 8 piedi? si sono tantini eh ma infatti si come i ragni sono scomodi da portare no Morelli che cosa ho fatto? quando vai dal calzolaio cos'è che hai detto? il momento siete sempre i soliti scolacchioni scolacchioni non l'abbiamo fatto abbiamo vinto due partite senza usare le nere ci mancherebbe oggi è serata onesta oggi? azzo Marco dove è finito? momo combo beh ah ah bello in giù beh 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 momento in dai ma in the way io dove andato? se mi legge e rompe il ca esatto il mio lavoro è rompere il ca va bene dai perdonami Morelli ma non vedevo più nulla sono dovuto sistemare gli occhiali cioè ormai li hai puliti con la adesso che li ho puliti posso ben vedere che carte c'ho allopix grazie mille allopix e anche allopix 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 ruggiero 20 ruggiero 20 ruggiero 20 grazie ruggieri niente questo strunz niente amici comunque ci ha rovinato malgioglio paraparaparapam aia cazzo che male è con testa per forza dai sfido per forza ha un altro più 4 con lo strozzo va bene va bene va bene va bene marco va bene marco è un altro andiamo a vedere cambia dovevi far l'altro a morelli brina bruna bruna domani accidenti accidenti hai tuoi denti accidenti hai tuoi denti no hai un giallo marco infatti sei stupido non c'entra ma è che mi frega e come che ti frega ma no tanto l'ha fatto apposta ma i morelli ma quanto curo ragazzi giocanotte dieci mesi ma che culo che culo cosa no no sfidali vaffanculo sfidalo ma infatti e poi ha cambiato colore ma intanto quello dovevamo fare no tu dovevi buttare un'altra cosa ma io adesso vedi grazie al cielo grazie al cielo abbiamo sprecato tutti i nostri poverup ma tanto che cifre che noi che ce ne facciamo noi di poverup e ci vinciamo la partita no guarda lì e no perché adesso guarda sto struncio guarda guarda struncio te anche e niente pac momento entai abbiamo vinto morelli e abbiamo vinto bruno ma non è bruno non sono buoni il talento si vede da altre cose mi spiace sì sì dai il talento si vede da altre cose è i piedi change che culo che culo che culo che culo niente quello lì bruno sempre e io che faccio change mi sei fatto una cacata amico mio no va bene così perché non mettevi più due morelli io non capisco fortuna che siamo in vantaggio perché questa è una partita spercata 3 a 1 veramente 3 a 1 ma morelli stiamo rischiando ci sta raggiungendo effettivamente tenete duro tenete il distacco amici dovremmo farlo una volta tipo i punti finali vanno all'avversario cioè il punto final vanno all'avversario bisogna cercare di perdere quindi non finirà mai la partita perché giocavo tutti di merda esatto anche perché continua a pescare un bel quattro change cos'era sta merda e ho sentito una panza che veniva scolacciata io ho sentito era bene che si scuoteva con il paravento che c'era il paralume ecco cos'era ahi che imbarazzo marco ce l'è anche lui ce l'ha vaffanato va bene va bene va bene vai vai marco stavo analizzando fallo fallo morelli fallo fallo no e fallo morelli e fallo ma perché quella va bene va bene dai lo faccio te il brinto scemo che culo e ma morelli io come faccio adesso adesso come fai marco fai tu fai tu fai che si tu non fai niente adesso cosa fai non c'è da far niente ma reali io ho molta fede nel team agliano figa liedzer buono morelli e dai non dovevi non vuole la fine con la nera però perché io ho il team onesti ok perché sei uno stupido coglione niente io comunque non ho ancora nulla in tutto questo ma benissimo per culo ma perché mai tanto se gli facciamo quello lì me la giocava contro magari no io avevo tre ma magari no magari non si gioca vedi siamo 4 a 2 io avevo tre salta giro non verde 4 a 2 cazzo stai dicendo come c'è gli ezzor testimoni tutti in chat sono salito di livello e vai forza dai una volta che stai un super saiyan dai gli ezzor e dai due come i capezzoli i capezzoli mi sembrano un'ottima delle maiali dai marco vabbè mi vuole mettere in difficoltà questo qua ma 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 devi mangiare il richello ehi ehi faccia colore il jj jack grazie bravo morelli ci siete bella grazie jj jack grazie jj jack diritti jj jack jj jack jj jack jj jack diritti diritti jj jack diritti 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 change change your music si ahah una marco bravo mario questa è è terra dei rose è terra dei rose ed è esattamente mo vo dico cacolucli grazie cacolucli a 98 che dice sono stato un bel po' assente a casa dell'università ma nonostante debba tagliare alcune spese superflue sappiate che voi non siete tra queste quindi eccovi due euri una verde e una nera continuerò a seguirvi attivamente una verde e una nera c'è grazie mille guarda tra l'altro il coso il salta turno c'è verde esatto c'ha la nera c'ha la nera guarda che l'ha fatto l'ha fatto veramente l'ha fatto allora ragazzi chiunque in chat ti fia ancora il team culoni io ve lo permabanno io lo permabanno vince con la nera io lo permabanno schifo Aynoth onta per te onta per te si adesso pescherà per fare il buono ma ormai onta per te dai questa è pinta però continuiamo onta per Aynoth no ormai non puoi riparare solo perché ti ho messo alle strette non puoi però anche voi ragazzi certo certo io non dico nulla ho già detto tutto io non ci sto io la partita prima potevo chiuderla mezz'ora prima usando le nere anche io potevo chiuderla con la nera prima dai io a ben claro vai oh 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 muovi segni Marco ma perché che faccio perché Marco sei uno stronto com'è che faccio quello lì è uno spreco e via no sei scemo scusa che è uno spreco sei uno scemo no era lo shield ma è lo shield ho capito abbiamo perso così e vabbè due volte almeno ha vinto ha vinto ha vinto ha avuto i suoi ma ma fa culo abbiamo vinto due volte abbiamo vinto ma scusa ma che c'è di male non ho capito ma qual che senti male sono scemo sei ma che c'è che però scusa non lo scudo volevo usarlo in una maniera appropiata ma che lo volevi usare abbiamo perso fanix e se vincevamo fanix caster e poi avevo vinto tifty fifty ma che tifty fifty ti 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 salutami con la voce di folk di park finder ciao gg e comprimenti l'ultimo episodio bellissimo grazie ma adesso io non ci gioco tu non ci gioco ma che perdonatemi ma tocca a me poi ma va qua il culo ma perdonare il tuo cervello Marco me lo corna lì notte sarà più di là ma siamo in vantaggio ma chiedi scusa a tua madre Marco scusa ma ma lì a zack perché non hai usato come lo usavo scusa e cliccandoci sopra credo no è moda che hai saltato un turno ma si che era lì cambiava colore e ma a parte che cambio colore devo farlo casuale comunque ma che casuale non avevo buttato il mio colore e ma il tuo colore magari ce l'aveva anche lui che ne so io ma ce l'aveva anche lui ma io vincevo intanto vedi va bene eh cosa vuoi farci a me non intimoriscono a me non intimoriscono queste cose a me si guarda che carta de merda che ci sono venuta e il problema c'è e il problema c'è morelli e rimango fedele once again e grazie vannishoxi 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 ogni volta che qualcuno fa per vincere mi sento chiamato in cauda torno a spiegare sono un indiana con voi sottofondo che storia grazie bruno grazie mille bruno bruno ah vedi giochiamola niente oh once again msaba msaba grazie ciao lasagne ciao e qua dobbiamo tentare morelli oppure no io tenterei facciamo così dai tentare non nuocere morelli morelli eeeh barco che faccio fallo e non lo so e fallo spicicapucci anzi con una cifola spicicapucci fortunello ma che fortunello io fortunello e beh il terzo più due che hai moro e vero eeeh eeeh ha una certa adesso fortunello si chiama non culatore io la vedo più tendente verso il culo effettivamente morelli che tolge fortunello io che gioco con uno stronzo ma che c'entra adesso non mischiare che vuoi quello giocava quello vinceva con la carta nera troppo se non fermavo tutto gioco e vabbè moro sempre profettino profettino cosa vuoi dire ho detto profettino perfettino 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 eeeh 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 l'albumetto con male marco e no guarda accendo una questa la vinco eh va bene dai infatti mi servivano un po' di caldo guarda ma che palle o morelli che faccio e farlo che vuoi fare se non posso ma sì che puoi rimettemi quello lo sfido lo sfido vedi che ci cascano sempre va bene va bene fallo morelli se non fanno tu perché basta però ragazzi quanti però capito morelli quanti a fortuna si vede carte nere non ne ha avuta questi cazzi sono quelli ci ho avuti ai notti e ma vaffanculo ma vaffanculo tu stronzo vediamo il linguaggio siamo a quasi 1500 ma fino ai 2000 come quasi devo fare lino d'angelo once again a leggene 93 quale faccio a mille e cinque di tonino d'angelo e mille e cinque e niente morelli e ti mali quanto siamo quanto piano per noi e no come no corn tu che sei larvi che vuoi ma perché mi insulti chi ti ha fatto vincere adesso lo guarda il culo e io adesso io no e più e più due stanno già chiamando quando treppi gli ex culoni no ai noto che è successo ma allora marco e vabbè allora le aliezza pensa con lui eh io non volevo arrivare a questo punto e che vai stanno già con due carte io e noto come posso si si stanno già finita e vai e gli ex giocchiamo io e te non lo so e io no oh toto morelli oh oh e che vuoi e lo faccio oh toto change vai vai no lo sfido è che voglio vedere le carte e bravo gialla e blu gialla e blu molto bene mi piace tu vai gli ex gialla Bruno adesso gli ex butta la nera ah come li abbiamo fregati wow c'è la blu lui e cambia perchè la cambio cambio colore cretino ma c'ha la blu lui eh si ma si perchè devo cambiare colore e vabbè cambiavi per me chemo ma che cazzo perchè scusa ma cambiavi per me ma non c'è bisogno adesso guarda come ti si ritorce contro ma non c'era bisogno e se c'aveva il più due ti arrivano quattro carte a te ma non c'era comunque bisogno che lo buttavi ma si perchè se facevi quel colore qui era meglio lo stoppavo di nuovo e rifacevano la cosa eeeh lo stoppavo di nuovo scusa il giallo c'era il rischio che ti prendevi quattro carte ah che imbarazzo marco marco ce l'hai giallo si e niente anche in chat marco e pensano che tu sia totalmente fottuto di cervello ma no era giusto eh il ragionamento perchè con la gialla poteva prendersi quattro carte ma non è vero ma si perchè c'avevo il più due se li aveva un altro più due te ne prendevi più quattro cazzo eh ma tu non dovevi buttare il più due non c'era bisogno guarda che ti sei ritorno da contro eh 50% di possibilità e hai scelto quello sbagliato guarda che sei un impazzito solo per dirlo adesso perchè ha senso il mio ragionamento beh se tutti lo dicono ma lo dicono perchè mi stanno prendendo in giro e no marco non c'era bisogno ma si perchè se ero costretto perchè poi tiravo il turno prima e il turno dopo col rosso avevo la situazione in mano tutto avevo e vabbè ma poi io non ce l'avevo adesso per cambiare il colore e prendevo le carte dopo vedi noi siamo un po' sfortunelli scrivo non marcha così avanti con i turni che vede le giocate della prossima partita vai ma guardate se fate cacare non ve lo mettono in nodangelo eh beh per questo ti ringrazierei anche questo forse è anche una benedizione che vi faccio eh ma io moro adesso lo devo usare a caso eh vabbè marco poi se non lo usi come prima che perdiamo è un po' stronzo però eh oh eh o così o vincevo con la nera eh no ma sei uno stronzo per un altro motivo scusa eh vabbè tu ti attacchi e uno deve sacrificarsi per il colore cazzo che sfiga e poi dicono a noi guarda quando ho mai detto niente mai e ho buttato la verde eh sfiga ma potevo vincere con la nera già da prima comunque io c'è da dirlo eh eh le cose che sono sono quindi siamo a 5 comunque con la mia giocata abbiamo vinto eh in chat allora che è ma scusa ma ce n'era bisogno io la tua giocata non l'hai fatta ragazzo così è un colore no è veramente timbaliali ahahah un colore Ma cos'è sto colore? Dai cambiamo Sono diventati gli streamer medi di merda Troppo animale Malgioglio, Bass Hunter e Ruki Vuoi fare ancora due fissette? E scorreggiamo e bestemmiamo Che male è le cavità Nali Che male è le cavità Nali Come? Ah col tasso destro lo tiri via E' scappata da sotto il mazzo la carta C'è la vivi nella managa Eh no E Marco doveva farlo Poi sono io eh Eh scusa potevo non buttarla Però avevo più controllo Comunque vi devo fare Nino D'Angelo Vi devo fare Nino D'Angelo Nino D'Angelo Guarda ti rimetto Non è vero a quanti siamo? A quanti siamo? Non è vero non siamo a 1500 A quanti siamo a 500 Eh Ramona ciao Ok va bene Eh gli ho dato 4 più 4 sicuro Jezar se non riusciamo a vincere Io mi incazzo Non so cosa fa questa Ah no questa va bene dai Ma che sei l'idiota? Ma sì va bene Va bene Tanto a Jezar non ne arriverà nessuno E guarda A me una me n'è arrivata E guarda perfetto perfetto mamma mia che perfezione e Marco che ci dobbiamo fare che ci dobbiamo fare puoi anche sfidare tanto non vinci questo è culo e dai dai quasi ci hanno raggiunto un'altra partita e sono come noi 5 a 4 per noi Moro e dai 5 a 5 andiamo un po' cinchi allora dai ma non ho capito quanti siamo nessuno me lo dice allora niente rinodano ma l'abbiamo toccato il 1500 ma no grazie bicolor grazie qui si che sale ma non lo so vi stavo leggendo può darsi anche potevo cambiare il giro vai e vai c'ho ancora le lacrime agli occhi e vai stronzo vai Liezar tocca a te oh che partita la voglio giocare rilassante questa qui ma di tuo marito si dai tira il dito e vabbè dai che ci vogliamo fare no vabbè ma si e che cazzo vale no va bene va bene come no Moro no e si Marco e no e Marco si e si Marco e si Marco perché si Marco perché si Marco non è vero ce ne hai 67 gialle guarda lì guarda ma non potevo buttare le gialle ma cambiavi allora adesso posso cambiare no è scemo metti che dopo dobbiamo vincere questo è un mongoloide questo è un mongoloide beh è una sfidina io gliela tirerei assolutamente vabbè 4 se le prende comunque no va bene dai no vabbè andiamo di qua vai Marco ma no adesso tu mi devi dire cosa capivo che c'è 97 carte vado a capire quella che pensavete quella carta un più qualcosa penso no quella no adesso dopo vai Marco adesso sei sicuro? no però fallo arriva tutto a noi arriva no penso che di base arrivino più al esatto ai team avversari ehi che carico scusa quante c'abbiamo tutti vengiamo dai dai sono gentile dai Marco anche io sono gentile grazie sei molto gentile cortesissimo non c'è di che non c'è di che a lei a lei niente adesso vedi adesso ma guarda te ma stai zitto scusa Marco prima non mi serviva però scegli il colore ma sei proprio uno stronzo sei proprio un pezzo di merda come le righe del sedere come ti siedi cosa c'hai il sedere gessato magari c'hai un po' di ticchina change vedi che sei uno stronzo però no confidi nel potere del change change vedi tu vedi Marco e non lo fare dai e dai Marco è uno dei due e lo faccio change guarda confida nel potere del change Morelli guarda vedi perfetto e niente perfetto perfetto eh vedi due come le balle faccile vedi Morelli torna sempre il giro torna sempre Morelli e mo no non lo so no vedi vedi non mi metterò alla prova eh perché va bene tutto ma sono comunque un uomo del change eh eh dai Bruna e falle change poi eh che dobbiamo fare e nemmeno io dobbiamo andare a sederina Marco prova facciamolo potere del change e dai che cacchio e dai no non può avere più culo dell'uovo del change ai nostri cioè io non ci credo che è così culo cioè guarda che veramente bisogna avere le mammine bislacchie però in questo caso secondo me un po' simpatica guarda che io e beh e un altro e sì e che cos'è ste carte Moro e niente Marco ma questi sono scemi secondo me si mettono d'accordo e io poi la partita la fa Giezar cosa vuol dire la prossima volta la faccio io controlliamo bene cosa non cambia niente tu perché siete voi che fate le magagne questo è il festival di Sanremo qua ci sono le magagne sotto vince sempre Marco Carta e Marco io che faccio per adesso a me va benissimo Morelli dai ho capito oh è bravo ma che scemo sei vabbè tanto c'è il potere del mongolo che scemo sei che scemo e tieni Marco potete mettermi un numero che almeno posso zingiare e che è quello c'ho e io che faccio mo lo sfido chi se ne frega ma che faccio mo due gialle e una rossa c'ha va bene quindi noto c'ha due rosse e una gialla fallo vai fallo ah Marco ma non mi ricordavo che numero era l'ho visto capito questa non ce l'avrà può avere culo ma fino alla cento voglio dire e non lo fare tu però ma chi l'altro non avrà sto culo voglio dire e invece si non hai visto ma basta verde basta verde no Morelli non è possibile questi qui c'hanno il sedere enormemente grosso e non è possibile Marco e guardamele lei ha due rosse e una blu e non ci sono più due e non ci sono più due ma ho capito e vabbè grazie e ma guarda ehi Marco lo faccio adesso arriva tutto a me guarda sicuro oh meno male guarda uno va bene va bene va bene si dobbiamo un po' ricominciare ma va bene cazzo Marco vediamo un attimo quante carte c'hai tu ma non le vedo ma che fa questo e dai Marco Marco questo mi andava la nozza è proprio va benissimo Moro meno secondo me però però potevi ma Gioio Gioio oh no Marco eh non posso finiscono nel mazzo ma stai guardando le mie carte poi a parte che faccio fatica a guardarle perché sono un po' vai Lieder ma che vai Lieder cioè c'è bisogno che vai Lieder guarda le mie carte eh non lo so come è possibile che arrivo alla fine una gialla e la nera infatti non ci arrivi la gialla 2 ce l'avete fatta pescare voi e la nera e la nera eh adesso non ha avuto il tempo eh no perché prima aveva un'altra nera è quello è rimasto con due nere e la gialla Morelli facciamo così vai uombo-combo e cosa faccio continuo non lo fare che continuisci ma di che continuisci ma come pesca pesca ma che cazzo devo pescare ma tanto non ce l'ha il verde eh che culo no non ce l'aveva era una lo conoscevo ma si vi eravate presentati a brischio no no Amore non ha il verde ho capito ma pensi che il numero a molti numeri a molti numeri però infatti che mi metti il giallo e comunque avevo il duro stesso proviamo a changeare ah vedi e niente però sono massimo strutto scusa e c'hai i numeri sempre io la lancio e me la prendo in faccia ogni volta mi ha finto che c'ho i numeri e tanto non lo sappiamo cosa va a culo e loro ce ne hanno più di noi quindi vincolo e allora ti bruna di nuovo dai dai palle continuiamo Fetelli continuiamo Fetelli Brudelli quello del Milan ma stronzo ma perché non ti va mai ma va bene puoi giocare ma basta dirlo per inerzia ormai lo puoi giocare ma non c'era bisogno vedi ma si e tanto non la conosciamo comunque l'ultima carta e si e dai qual è era l'ho sentito troppo era il rosso quanto per ogni volta Bruno c'ha il rosso lui come ultima e vedi che palle che palle hai rosso quindi Morelli non ce l'ha inventato però ha detto c'è il verde ma cambio Marco ma il rosso ce l'aveva prima hai detto ma ce l'aveva hai detto l'hai detto tu l'hai detto tu ma come era una buffonata io ci ho creduto ma che burla ma che sei scemo questo qui è un deficiente questo qui è un deficiente ma che burla io ci ho creduto mezz'ora ho fatto le tattiche non andiamo sul rosso ma che batti in 5 deficiente l'abbiamo vinta noi per voi questo qui batti in 5 lo botto io in 5 basti a scherzo questo qui è un deficiente aspetta Moro guarda ti sta bene speriamo ti dà il percorso più 4 ma si ti sta bene ma invece io change che bello te lo meriti Morelli per allora basta basta no vabbè niente lì pieza prego cosa stavi pensando no stavo vieno un po' guarda che vai tu perché mi hai pescato un casino ah si eh ma niente che ci possa essere tanto d'aiuto in verità per ora mi hai fatto finta di fare le tanti che poi vi faccio ammigere noi usate le nere eh tipo adesso no che devo fare ah che c***o ma che culo la pescata che culo eh dai dai Marco pescane un'altra dai Marco pescano un'altra che sia mai che io non ascolto le persone ti vedi eh eh beh ma si no io non lo farei in questo momento è me uguale Marco quindi ti è Marco pesca dai è bello come mi arrivino sempre colori belli muovi diverso pesca ti muovo un attimo ah vedi un giro no Marco ecco noi qui ci si prova eh vai andiamo a vincere ah con la nera ha vinto ma che merda che merda era visto non ho parole ragazzi vittoria io non ho parole una nera cioè abbiamo poi più due non ho parole hanno vinto con la nera adesso io non ho parole no non ho parole io non ho parole uno si impegna tanto per andare in vantaggio e questi pareggiano va bene le abboniamo queste a 5 pari e infatti pareggio pareggio ciao 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 è la nera cioè io non posso giocare con sta gente ragazzi cioè mamma mia abbasso le nere e poi è un po' razzista non sono cose proprio da dire no io te lo dico mi sembra ma suonene è un po' è un po' ma aspettate che si ferma Marco ho fatto ai ai le dame sono lunghe ma che miseria ma che miseria ma che grazie che questi oltre ci chiedono il canale tutti scorreggio le scorreggio non c'erano ma arrivarono ma il giogno orca miseria basso le nere egiziano anche tu il fiume ganger ma a che punto eravamo rimasti non mi ricordo no non lo faccio lo faccio o non lo faccio adesso vince con la vedi io l'avrei fatto guarda che merda di persone che sono ah vedi è bella scemo credo che marchio non abbia gialle io voglio buttare solo questa eh comunque il problema eh ma qua io l'avrei finisce e vai e ti maliari e ti maliari e passano in vantaggio e passano in vantaggio 6 a 5 metti la mano qui quanto siamo quanto siamo adesso obiettivamente così te lo dicono in chat te l'ha scritto cord per noi infatti eh non proprio ma perché ma che bella situazione dai mini combo anche noi ce l'abbiamo tanto ha senso unico ma e poi non far giocare Marco dai e fallo giocare Marco io non ho le carte no no Marco non ti gioca ma Alex Aldi non sa niente di carte lui è un ex alcolizzato voi non lo sapete non giochi ma tanto io vinco lo stesso anche se non gioco voi non mi date il pallone e io ve lo buco beh ti buchi il pallone non ci buca certo con il pene chi sarà quel chain finale così perché hanno sentito la canzone dei jamboi di sottofondo che cantava ah si ah vedi che bella carta ah vedi non lo è così così Marco ti sarà mai grazie detox grazie mille le tisane le bevante detox le bevante sei malcioglio bevante sei malcioglio eh che sfiga con le carte però qualcuno si è fatto male ha sentito chiaramente ha detto oi però è il mio turno ecco lo faccio l'ha fatto Marco prenderò la mia vendetta yes combinato i meridiani yes yes change guarda maia che male c'è un cretino c'è un mongoloide cosa ci devo fare io se questo è uno scemo c'è un cretino c'è un cretino non è un cretino veramente grazie mille grazie mille per questa donazione io sono un occo mosso veramente i singhiozzi sono vero ma lui poi tra l'altro ne ha passate tutti colori ha avuto la mamma che era una drogata al fratello lui mi ha raccontato una storia incredibile ma nonostante questo nonostante questo lui è riuscito comunque a donarci questi soldi ho sviato il discorso posso smetterli di parlare e niente e niente guarda che caro che male che male uomo combo aia questo fa male e si dai e dai marco questa non lo sfido è terra de rose o si no no e ringraziamo edwin again grazie mille il solito martedì sera rutto libero insulti e abbasso le nere ogni tanto vedervi live fa bene al cuore altre vietatemi noi molto gentile vai gazzor no aspetta no dovevi aspettare dovevi aspettare politica lì non corre eh lo so dovevi aspettare vabbè eh insomma eh eh sì marco che ci dobbiamo fare tanto cioè ehi cioè sì eh eh no pui pui puiri puiri pui che palle è solo quello moro eh sì ma niente sono il pappagato pappagato gero contributo che Donadoro dice per le cure di Mark grazie mille di queste partite direi che ne avete bisogno grazie grazie mille con la nera ci siamo rifatti ci siamo rifatti con la nera aveva vinto con la nera no perché il cambio colore non è una nera il cambio colore non è il cambio colore ah ok non è una nera nel senso non ti fa saldare il turno quindi non è vincere con la nera ah no siamo sicuri no no dai andiamo avanti eh no alle inghe qui che ti sbagli perché non si riesce a capire il linguaggio umano tocca a me ah vabbè Moro tocca a te ah no tocca a me Marco tocca a te tocca a me toccava adesso tocca ai no dai facciamo così questa è terra da poser vedi vedi guardate queste carte nera che sudano nera 50 grazie mille nera 50 non dice niente ehi questo è un cambio giro lo è e va bene dai va bene dai meno bene no bene non leccarmi le cuffie potevi fare l'altro no vado così ma si dai vado così senta non volevo giocare adesso quindi sto mangiando le unghie io Marco c'è a me spiace però se lui è sfondo ti da un altro più due no invece vedi vedi fai vedere se lo fa con te invece fammi vedere un attimo ma tocca a me eh visto che tocca a me potrei fare questo dai guarda che disgraziato chi vai eh sì eh ma tanto non cambia la mia situazione no sei veramente un mongoloide mora allora è ufficiale fara fortuna vedi che era tutto progettato al doc e questo è vincere con la nera vedi questo qui è vincere con la nera vediamo non è vincere con la nera è perché sei stupidino eh no perché ti ho lasciato la possibilità eh no perché comunque vincere con la nera no solo perché tu non hai rosse perché il più 4 è vincere con la nera no sono imbarazzato no è veramente imbarazzante è una situazione che ormai non può andare avanti hanno vinto solo così fino a te io veramente sono ma c'è perché poi uno prova a giocare per bene è rilassante io abbiamo vinto più quelle cazzate di Marco sì abbiamo vinto molto a parte che con quelle di Marco quelle di Moro no quelle di Marco eh Marco dai quanto ha le soldi ah vedi quanto scusa devi chiedere guarda che belle le carte ah ma lo ne ha perso un paio lascia fare e quando un paio cosa è non vuol dire quando prima siamo col cambio scossa va bene va bene dai grazie a Gabbo Gangi che sfiga ti dice dono questi dindini per aiutare con i pagamenti dell'elettroshock per il povero Marco guarda che ti vendico io lì a zara beh come se io non ne avessi uno di più due infatti non ne hai infatti bravo mi dovido è come se lui non ne avessi un più due eh no vedi che devo fare io vai Moro è come se io non avessi un più due io non lo so questi qui cosa hanno nel culo eh una ruspa no pazio direi no no dovevi no perché vedi ah vedi lo faccio ma sì dai Moro ma c'è allora qui siamo siamo stronzi o cosa eh no no loro li producono da loro enorme culo quelli lì ma giganti fanno delle torri di pisa col culo ogni volta delle torte di pisa fanno eh delle torte ma Moro cambi e niente scusa provo ma non è vero che potevo ah sì che c'è però no e se che puoi e girami che gli faccio vedere io a quello lì no ah cazzo no va bene vai ragazzi qua è imbarazzante la situazione poi diceva prima me qua è imbarazzante la situazione io non lo so io guarda non ho la vita no perché l'ho fatto non lo so va bene va bene beh infatti eh eh è il dico io ho mille sì infatti io non lo so proprio disgraziati eh Morelli ma perché diavolo Morelli perché diavolo ma sì che puoi sì che puoi sì che puoi no non posso ma sì che puoi in vari modi grazie allora Marco facciamo così io penso che gli sputerò in un occhio appena lo vedo comunque Morelli dammi retta oh vai sì vedi Marco vedi Marco guarda se andavi sul blu Marco non ce l'aveva ahia per quello cazzo Marco peccato peccato pallo vedi viva pallo per forza non è che cazzo che culo bravo bravo Morelli vediamo come andrà avanti la tua tattica aia che culo di merda eh no non te lo sfido vaffanculo hai peschato per fortuna se no ti vedeva le carte vai diazza e guarda te guarda ma che possibilità c'era scusa è vero non ce l'ha il giallo o questo volendo eh vabbè tu ne sai le carte sia di Moro che di Mark perché sono il quadro insieme esatto ah rooms ma fagliele pescare fagliele pesca ah no è il tempo quello ahah è il tempo quello eh vabbè il tempo va così ah giusto scusa non dovevi pescare e ti maliali e ti maliali già non puoi decamminare e ti maliali e ti maliali e ti maliali hanno paura perché hanno paura di scendere ancora dai facciamone una veloce chiudiamo eh no 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 facciamone una veloce ma che veloce già uscito allora amici noi vi ringraziamo vada ce l'ha 6 più 4 Marco ma che cazzo noi vi ringraziamo madonna veramente noi vi ringraziamo per essere qui eh sì la prossima volta si rifaranno a sostenerci avete fatto un sacco di donazioni stasera siete bellissimi tante tante vi vogliamo tanto tanto bene sono loro che non sanno giocare per quello si danno contro l'un l'altro e niente la prossima volta proveranno appunto a batterci gli Ezra e Not e vedremo se ci riuscirà fallendo come ogni volta perché noi ci siamo innamorati e niente alla prossima ciao 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 ciao